Manifestazione in tutta Italia, davanti alle sedi della RAI, delle lavoratrici e dei lavoratori del servizio pubblico per chiedere una RAI libera dai partiti e dai governi. Ancora una volta invece si apprestano a occuparla scegliendo un consiglio di amministrazione secondo le vecchie logiche della lottizzazione. La RAI appartiene ai cittadini e quindi è a loro che bisogna render conto dei criteri con i quali verrà nominato il prossimo CDA del servizio pubblico. Per questo, USIGRAI e Federazione Nazionale della Stampa Italiana ritengono doveroso che le nomine vengano precedute da un dibattito alla Camera e al Senato, in diretta TV e radio, sugli obiettivi, i fini e la missione del servizio pubblico. I cittadini hanno il diritto di avere alla guida della RAI persone autonome, indipendenti e autorevoli. E i partiti hanno il dovere di uscire dalla RAI e lasciarla finalmente libera.